Io volevo andare a casa, ma Ashley ci teneva a vedere il castello. Dove andiamo? Bene, Ashley. Luis ha detto che... Ho capito. Andiamo allora, no? 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 Io sono stupito da questo lavoro. Sei impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Ci sono tante altre cosette interessanti, amico. Ciò che vedi è tutto quello che ho. Torna presto a trovarci. Il cortile è dietro quella porta. Dubito ci accoglieranno con un tappeto rosso. Balestre, eh? Non sembrano essere molto socievoli. E quella? Di certo non è solo per bellezza. Le cose si mettono sempre meglio. Non è solo per esempio. Che stanno? Sssh. Abbasso la voce. Che cos'è? 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 Ashley Ashley Leon, no! Ashley Ashley! Riproviamoci! Ok, è andata bene. La prossima volta avvertimi. No 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 Che bravo No Wow, che posto incredibile Certo, è vecchio, ma... È una richiesta fatta È finita perché... Ottimo lavoro Che vuoi comprare? Non possiamo fare a meno del... Dove lo trovi lo spazio necessario? In tasca? Saggia scelta, amico Con quest'arma puoi bucare qualunque cosa Ciò che vedi è tutto quello che ho Un'arma... Non lasci nulla al caso Sei sempre pronto a tutto Così si fa Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero Torna presto a trovarci Benvenuto, bene Che posso fare per te? Alla prossima, allora Oh, la pausa è finita, presumo Un caloroso benvenuto Nel mio castello È un piacere fare finalmente la sua conoscenza Signor Kennedy Chi diavolo sei, tu? Io? La prego Mi chiami Ramon E mi permetta di arrivare dritto al punto Vorrei che consegnasse a me Quella fanciulla Adesso Sì, puoi scordartelo Ramon Lei sta bene dove sta Con me Signor Kennedy Signor Kennedy Che cavaliere Tuttavia, vede La ragazza ci è necessaria Usando lei come fonte primaria Gli Stati Uniti E poi Il mondo intero Strariperà della sua grazia Questa è la volontà del mio padrone L'onnipotente Lord Sadler Allora Obedirà agli ordini Vero? Mai Beh, l'hai sentita Ma che disdetta Accertatevi che l'ospite si senta a casa Ora che ha scelto di morire Liam Stammi vicino Cosa Ma che... Ma che... No No Sopos Don Non Oh Ashley Resiste Ah 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 Ashley! Ferita? No, sto bene. Niente. Vieni. Ok. Ashley, puoi aprire dall'altro lato. Ok. Grazie. Ok. 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 Continuiamo da questa parte Sta' attento Ah, poveraccio, che brutto modo di morire Che cos'era? Ci saranno degli animali chiusi qua giù Ah, mi frede 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 Grazie a tutti Oh 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 Sei tu Che è successo lì sotto? Niente Ma avevi ragione sugli animali Tutto ok? Tutto bene Oh 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 Wow Guarda tutta questa roba Oh 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 Se spari a quei gong li farai suonare Oh 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 Che cosa ti serve? È solo una replica Non serve a combattere Oh Era l'ordine giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leon, di qua! Grazie. Stai scherzando? Saltare sui lampadari ti sembra normale? E tu che sei, mia madre? E tu che sei, mia madre? Lascia fare a me! I miei saluti, signor Kennedy. È pronto a consegnarmi la ragazza? No, ancora quel tipo. Ho preparato qualche divertimento per intrattenerla un po'. Senza ulteriore induci che il valoroso cavaliere protegga la principessa! Ah, è chiusa. No, ancora un po' di più. No, ancora un po' di più. Non è un po' di più. Grazie. Ah, ricorda che sparare fa rima con giocare. Benvenuto. Come posso esserti utile? Ah, ti pago un prezzo bello alto. E' stato un ottimo affare. Mi raccomando, trattalo con cura, amico. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Hai esaurito, ti serve nient'altro? Torna presto a trovarci. Torna presto a trovarci. Torna presto a trovarci. Torna presto a trovarci. Vieni. Ok Addio Arrivano Ah comincia la festa Lì a nascendo Attento Lì Mi sta Alla Alla Ma 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 Ashley! il prossimo tutto ok? si Ashley bene non stai bene e facciamo una paura sto bene bene dobbiamo continuare qui 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 di nulla qui 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 via dalle palle stai bene? si tranquilla dovrebbe andare bene qui 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 Sì, sì. 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 Andiamo. Sì. Sì. Vieni qui. Ehi, sei sei. Sì, sì. Sì. Sì, sì.